Si chiama Lucy Letby e pensate che avrebbe compiuto qualcosa di incredibile, infatti avrebbe fatto fuori ben sette neonati, sette bambini piccoli appena nati, nell'ospedale in cui opera a livello lavorativo. Nel diario avrebbe annotato le date di nascita e addirittura la morte il giorno che l'ha creata. Accusi pesanti nei suoi riguardi, ne avrebbe fatti fuori sette e ne avrebbe tentato di uscire l'altro dieci. Non solo una donna malvagia, così avrebbe riportato nei diversi diari una personalità giudicata a psicologi e psichiatri che danno esaminata come una personalità dissociata dalla realtà. In pratica è come se la donna in questione avesse vissuto un mondo tutto suo, tutto diciamo così, da lì creato. Avrebbe addirittura tentato di uccidere per ben due volte un bambino prematuro portato da ospedale. I pubblici ministeri si sono adoperati facendo sapere a tutti che la donna ha dei problemi piuttosto gravi. Andrà in calcio? Non si sa. Vediamo quello che accadrà in futuro. Da Narrato Italiano è tutto. Ciao a tutti. Una buona sera.